Ciao bambini! Oggi vi voglio presentare il monellino che abita a casa mia. Vieni qua, Anice! Vieni, vieni qua da me! Eccolo qui! Si chiama Anice, lui è il mio cagnolino ed è un vero monello. Combina un sacco di guai, vuole mordere e rosicchiare tutto quanto. Volete vedere la sua copertina? Guarda qua, è tutta piena di buchi! È un vero diavoletto! Vieni? Sì, sì, sì! Mi piace tantissimo giocare con i pelucci, guardate! Vai! E poi me li riporta qualche volta, che qualche volta gli piace rosicchiarseli, vero Anice? Ma la cosa che piace di più a Anice è giocare in giardino, correre e saltare nel prato e scavare delle grandi buche. Per questo adesso è tutto sporco e sapete cosa deve fare? Il bagnetto! Volete vedere il bagnetto di Anice? Sì? Allora venite con me! Non sei tanto contento tu, An? Vero? Guarda un po'. Ecco qua, io ho preparato la sua vaschetta con l'acqua. E adesso tocca a Anice. Vai Anice, entra! Forza! Ok! Ce l'hai fatta! Non scappare, eh, Castelli! Devi entrare tutto, Anice! Così! Dentro bene! Dai! Ecco! E adesso lo bagniamo per bene! Anche la coda, Anice! Così! E il musetto! Guarda un po'! Oh! Dai, non fare capricci! Guarda come ti sei conciato! Sei tutto sporco! bravo, Anice! Bravo, Anice! Bravissimo! Così! E adesso ci vuole un po' di bagnoschiuma! Eccolo qui, bagnoschiuma di Anice! Adesso te lo metto un pochino! Ok! Sulla testa che facciamo lo shampoo! E su tutto il corpo! Così! E adesso bisogna fare un po' di schiumetta! Su! Uno shampoo! Mamma mia! Guarda che meraviglia, Anice! Anche un po' qua! Così! Le orecchiette! La schiena! Ecco, fatto! Ci vuole un bel massaggio per diventare belli! Fai, Anice! Fai un bel sorriso! Bravo! Quando Anice ha finito il suo bagnetto, lo ha asciugato bene bene con il phon e poi lo ha spazzolato con la sua spazzolina e adesso è tornato bello pulito! Pronto a spaccarsi di nuovo! E voi, bambini, ce l'avete? Un amico a quattro zampe? O un uccellino, un pesciolino? O qualunque altro animaletto che vi faccia compagnia? Come Anice? Se ce l'avete, fate un bel disegno! Se non ce l'avete, disegnate l'animale che più vi piace! Oppure quello che vorreste avere! Quando poi la scuola riaprirà, ci metteremo tutti seduti in cerchio a guardare questi bellissimi disegni che avete fatto! Adesso vi saluto! Ciao, bambini! Anice deve andare a mangiare la pappa! Forza, saluta tutti Anice! Ciao, bambini! Ciao!